Un saluto a tutti voi, ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Risalgono contagi e ricoveri in Sardegna, questo quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale. Nello specifico 538 nuovi casi rilevati, però con più tamponi eseguiti, 4744. Ancora alto il numero di decessi, ieri se ne sono registrati 9 purtroppo, mentre come detto è nuovamente aumentata la pressione sugli ospedali. 16 persone in più in reparti non intensivi che hanno fatto salire il conto complessivo a 593, ma quanto meno è fermo a 66 il numero di pazienti in terapia intensiva. Persone in isolamento domiciliare che hanno superato quota 13 mila, mentre sono 267 guariti registrati nel bollettino di ieri. Questo è il quadro regionale. Mentre Dalghiero c'era attesa per l'evoluzione della situazione al centro residenziale anziani. Ieri in un video il sindaco Conoce ha fatto sapere che sono risultati positivi anche 7 operatori, oltre ai 22 anziani. Di questi, peraltro, risultano due ricoverati, di questi anziani ospiti risultano due ricoverati, mentre un terzo è stato dimesso. Va detto comunque che nella giornata di mercoledì sono stati rieseguiti a tutti i tamponi, anche perché i dati emersi in queste ore si riferiscono in test eseguiti più di una settimana fa. Un aspetto in ritardo dei risultati già denunciato dal primo cittadino. Sentiamo però proprio le parole di Conoce nel video. La complessiva ci indica oggi dai dati ATS 55 positivi in città con 3 ricoverati, mentre invece al centro residenziale anziani abbiamo fatto rieseguire i tamponi nella giornata di ieri sia agli ospiti che agli operatori. Naturalmente sui tamponi eseguiti ieri aspettiamo gli esiti nel più breve tempo possibile. Auspichiamo già questo pomeriggio di avere i primi risultati. La situazione sanitaria degli ospiti quindi non è variata rispetto a quella che conoscevamo, possiamo dire però che non hanno sintomi. Ci sono due ricoverati e però uno dei tre ricoverati è tornato presso il centro residenziale anziani. Quindi c'è stata una dimissione, un esito positivo del decorso del virus che ha consentito al nostro anziano di essere riaccolto nella struttura di fertilia. Sugli operatori, sui 70 screening fatti, 7 sono risultati positivi. Naturalmente sono tutti a casa, non ci sono ricoverati, anche qui vengono seguiti secondo le regole. Ecco dunque le parole del sindaco che ha fatto anche il punto sulla situazione generale di Alghero. Come detto con 55 positivi attualmente secondo o almeno secondo i dati della TS che comunque come abbiamo detto anche più volte vanno presi con le pinze. Intanto dopo tanti giorni con notizie che si sono rincorse trovando più o meno conferme, ieri sera il Premier Conte ha parlato in diretta alla Nazione per illustrare i contenuti del nuovo DPCM che contiene naturalmente il vademecum di regole di vieti sulle festività di Natale e fine anno. Vediamo cosa potremo fare da qui all'inizio del nuovo anno. Come di consueto è stato il Premier Giuseppe Conte a parlare alla Nazione ieri sera in conferenza stampa da Palazzo Chigi dopo le 20 per illustrare i contenuti del nuovo DPCM che contiene soprattutto i divieti imposti per il periodo delle festività. L'Italia sarà blindata, la linea del governo è quella più rigida e la motivazione è di evitare una terza ondata a gennaio che si andrebbe ad accavallare negativamente con l'arrivo delle prime vaccinazioni. Confermato il coprifuoco e dunque anche l'orario della messa della vigilia dovrà essere anticipato per permettere il ritorno a casa nell'orario consentito che resta le 22. Gli spostamenti sono stati in nodo da sciogliere rispetto anche al ricongiungimento con i familiari per chi abita in diverse regioni. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non si potrà recare da una regione all'altra. Nei festivi, quindi il 25 e 26 dicembre, il primo dell'anno, non sono permessi neanche gli spostamenti da un comune all'altro. Restano le deroghe per chi ha comprovato la necessità di rientrare nella propria residenza. No agli spostamenti verso le seconde case in quel periodo. Le scuole, altra questione che ha tenuto banco fino all'ultimo, queste resteranno in dad, ovvero didattica a distanza, fino a gennaio. Parliamo delle superiori, quando è previsto il rientro in presenza. Tornando al Natale, che si avvicina, permane la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, nei festivi e nei prefestivi, mentre i negozi potranno restare aperti per lo shopping natalizio fino alle 21. Ovviamente gli ingressi, soprattutto in quelle attività che contano numerosa clientela, dovranno essere regolati. Resta alle 18, l'orario per la chiusura dei ristoranti e bar nelle festività, che potranno quindi restare aperti a pranzo. Aperti anche gli alberghi di montagna, ma con la cena che dovrà essere servita in camera, dalle 18 in poi. Infine, le tanto amate e cene in famiglia nel periodo delle festività. Qui nessun divieto, ma la forte raccomandazione è sedersi a tavola con i soli conviventi. Dunque è un Natale diverso, ma secondo il Premier non meno autentico. Cambiamo l'argomento, chiediamo la pagina dedicata all'emergenza Covid, ovviamente anche al nuovo DPCM. La regione Sardegna schiaffeggia, ancora una volta al Ghero, pubblicate le graduatorie della legge 7, basata su un'incredibile selezione che invece di tener conto delle qualità e del merito dei progetti, si basa sulla velocità del polso. Sì, un bando a sportello che premia solo la velocità del click. A scriverlo, in una nota, sono i consiglieri comunali di centro-sinistra. La cultura per i sardoli e i ghisti vale una manciata di secondi. Al Ghero, per la giunta Solinas, neanche quelli. Eppure i tavoli dell'assessore di Gaggia avevano partorito tante domande, ma niente risposte. Il Cadean vale zero e anche il parco di Portoconte, con emozioni di primavera del prossimo anno, non vale un euro. Dopo aver falcidiato il rally, ora tagliano le manifestazioni, la cultura e il turismo. Eppure in altri tempi eravamo riusciti ad ottenere dalla regione un finanziamento triennale per il Mondiale Rally, così come dal 2016 era avvenuto anche per il Cadean nella settimana santa. Un lontano ricordo attaccano i gruppi per Al Ghero, futuro comune PD e sinistra in comune, che aveva immaginato che un sindaco dello stesso partito del presidente della regione potesse rappresentare un vantaggio, si deve bruscamente risvegliare. Oggi, concludono dal centro-sinistra, chiunque può tristemente constatare che Al Ghero, come già per il pasticcio del finanziamento mancato al rally, continua a ricevere solo cenere dalla regione. Ci fermiamo per un break pubblicitario, tra poco con la seconda parte. Santa Barbara, oggi le celebrazioni con la Marina Militare e i Vigili del Fuoco. Stamattina alle 9.30, presso l'ufficio circondariale marittimo, il sindaco Mario Conoce ha presenziato alla celebrazione della ricorrenza dedicata alla patrona dei marinai e dei Vigili del Fuoco, ospite del comandante della Capitaneria di Porto, Pier Claudio Moscogiuri, con il parroco Don Angelo Cocco. Successivamente, come stiamo vedendo dalle immagini, si è riposta una corona presso il monumento ai caduti del mare, nello scalo Tarantiello. Alle 11, poi, l'assessore Marco Di Gangi ha presenziato con i Vigili del Fuoco alla messa celebrata nella parrocchia di San Giuseppe. Mercoledì prossimo, 9 dicembre, a Banoa dovrà procedere alla chiusura dell'erogazione idrica in tutto l'abitato di Alghero. L'intervento è dovuto al completamento dei lavori ancora in corso sulla via Sant'Agostino, angolo via Manzoni. Stiamo vedendo proprio le immagini. La chiusura dell'erogazione dell'acqua per tutta la città verrà a partire dalle 8.30 fino alle 20. L'annuncio dell'operazione arriva a stretto giro dopo le sollecitazioni del sindaco Conoci, che a seguito delle lamentele dei residenti della zona ha segnalato ad Abanoa la lungaggine estenuante del cantiere all'incrocio tra le due vie tra le più interessate dal traffico. Lavori iniziati più di un mese fa riguardanti il collegamento delle tubature contenenti valvole speciali di regolazione di pressione. L'operazione, secondo la comunicazione di Abanoa, sarebbe stata eseguita limitando al massimo la tempistica di esecuzione. Ad oggi, ha segnalato il sindaco con una lettera di alcuni giorni fa, dopo più di un mese dall'inizio dell'intervento i lavori sono ancora in corso e allo stato attuale risulta che occorra ancora molto tempo prima di poterli vedere ultimati. La situazione è venutasi a creare nella zona, oltre che a recare grave disagio agli utenti di quella zona, ha pregiudicato la circolazione stradale e i flussi di traffico, determinando la congestione di alcuni importanti trattiviari urbani. Situazione che poteva essere tollerata per un breve periodo, ma che oggi, istante di inspiegabile protrarsi dei lavori, non può essere più sopportata, aveva aggiunto nella lettera il sindaco Conoci. La comunicazione arrivata ieri da Bano la riferisce comunque del completamento dei lavori e la contestuale chiusura dell'acqua, lo ricordiamo, mercoledì 9 dicembre. Un nuovo ecocentro al servizio delle borgate nasce a Santa Maria della Palma, con un finanziamento di 133 mila euro della Regione. Il progetto di realizzazione della nuova struttura ha ottenuto nei giorni scorsi il Via Libera dal Consiglio Comunale, con l'adozione della variante urbanistica che riclassifica l'area con la destinazione artigianale urbana. La procedura presentata dall'assessore all'urbanistica Emiliano Piras prevede ora l'avvio del periodo per le conseguenziali osservazioni e per la successiva riproposizione per l'adozione definitiva. Il nuovo centro, denominato Ecocentro 3, nasce in un'area che il Comune di Alghero acquistò dalla Regione con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 luglio 2018 al prezzo figurativo di 1 euro. L'area individuata è quella in prossimità del campo sportivo della borgata, su un lotto di superficie complessiva di 4.160 metri quadri. Il nuovo ecocentro permetterà di colmare le carenze riscontrate e di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla pianificazione normativa. Accolgo con soddisfazione il passaggio condiviso della procedura in Consiglio Comunale per una struttura indispensabile che migliora la gestione di rifiuti in città e nell'agro, commenta così l'assessore all'urbanistica Emiliano Piras. La proposta progettuale conta già sulla determinazione della provincia di Sassari che ha ritenuto di non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica la variante del Comune di Alghero. La realizzazione del nuovo ecocentro è stata approvata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di maggioranza e opposizione, fatta eccezione del consigliere Ferrara che ha espresso voto negativo. E a proposito di Agro di Borgate, con la Presidente del Comitato Zonale Nurra, Tiziana Lai, abbiamo fatto il punto della situazione su diverse questioni, rimaste in sospeso e non solo, immobili regionali, viabilità, ma anche altro. Dialogo tra il Comitato Zonale Nurra e l'amministrazione che prosegue, cosa è stato fatto sinora, quali gli obiettivi a medio e lungo termine? Con l'amministrazione comunale si è affrontato un lungo e grande ragionamento per la questione agro che parte già dalla campagna elettorale, quindi noi abbiamo premuto perché gli obiettivi prefissi in campagna elettorale si portassero avanti. Quindi abbiamo iniziato con tutta la questione dell'agro, quindi le chiese, i fabbricati, le scuole, e quindi abbiamo portato avanti tutte quelle che erano le esigenze. L'amministrazione comunale ultimamente, a breve, che cosa ha fatto? Ha portato intanto la richiesta di due finanziamenti per quasi 2 milioni di euro all'interno del Piano Trinale dell'Opera Repubblica. Questo per noi è molto importante perché inizia a vederci la programmazione territoriale, quindi l'assessore Antonello Peru ha iniziato a vedere il futuro, Andrea Montis ha messo mano alle isole ecologiche anche con la sbarassa per tutte le borgate, con l'assessore Pira se stiamo facendo il continuare del ragionamento sul PAI e sul piano della bonifica per la correzione di quelli che erano degli errori materiali, e con l'assessore Caria e quindi con il sindaco in testa, perché poi il sindaco che gestisce tutta l'aggiunta, abbiamo aperto un'avvertenza all'interno del Consiglio regionale per fare in modo che tutto quello che sono le nostre richieste vengano prese in considerazione. Ecco, stiamo cercando di tenere sempre il punto fermo sulle esigenze della bonifica. Noi siamo sempre lì pronti a mantenere il punto. Qual è una delle questioni più urgenti? La questione più urgente è la manutenzione della rete viaria, assolutamente super importantissima, perché ormai nelle nostre strade non si passa quasi più, quindi adesso abbiamo fatto l'altro giorno un sovraluogo con l'assessore Peru per vedere di fare un po' di pulizia della parte del verde che sta andando a ostruire le strade. Questa è una delle prime cose, però anche la segnaletica orizzontale e verticale che sta ponendo in questi giorni l'inaus grazie all'intervento dell'assessore Piras. Insomma, le cose importanti, anche la creazione, per esempio, dello stallo degli scuola Busa Santa Maria La Palma, quest'estate, che adesso è stata finita la realizzazione con la segnaletica. Queste sono tutte cose importanti. È vero, c'è da dire, che noi siamo sempre lì a rompere le scatole, ma ci piace. Anche quest'anno l'Alghero Marathon sarà accanto all'Ail Sassari per la vendita e la consegna delle stelle di Natale. Domani è domenica 6 dicembre, con la giunta di martedì 8, giorno dell'Immacolata in Piazza della Mercede, dalle 9 alle 18 sarà presente un gazebo per l'acquisto della stella di Natale dell'Ail. Per evitare assembramenti e nel rispetto delle normative in materia anti-Covid sarà possibile prenotare la stella di Natale via SMS, WhatsApp e per telefono al numero 329-4605-190 oppure via posta elettronica all'indirizzo ailalghero-marathon-gmail.com. Anche per il 2020 la presidente di Ail Sassari, la dottoressa Marilena Rimini-Fiori, ha voluto che il prezzo di vendita della stella di Natale rimanesse invariato a 10 euro e che venisse garantita la presenza di aziende florovivaistiche sarde. L'intero ricavato della tre giorni sarà devoluto alla sezione sarda di Ail Sassari per sostenere la casa alloggio Ail che accoglie gratuitamente i malati e i loro familiari, ma anche per finanziare servizi socioassistenziali, sostenere la ricerca e le borse di studio, supportare i centri di ematologia, potenziare le cure domiciliari, offrire sostegno psicologico, portare a casa dei pazienti, farmaci e beni primari. Per oggi è tutto, io come sempre vi lascio al meteo. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.